Atenti, scarsa, buca! Mava rotulosa Bene o male, bene o male Chiamava mi su d'asco Ai se pia, bossa, ai Ai se pia, buca! Tu Gesù, a San Francisco Qua va tenendo l'ischio Ai se pia, bossa, ai Ai se pia, buca! Bua chumar! E' un comune A provincia, regione Se fa nessun Mastellore E qui cambiamo ammortizzatore E continuiamo a fare incidente E a tuoi, e a tuoi Vittorio Rocca Cantautore crotonese Cantautore invernacolo crotonese Insieme a noi questa sera Davanti al Columbus Vittorio, quanti anni sono di carriera musicale? Quanti anni che racconti Crotone? Hai iniziato con quella famosa O lungomare di Crotone E qui sul lungomare di Crotone Ti ritroviamo nel 2012 Con un altro cd Buonasera, grazie di essere venuti Questo è il nono cd Nono nuovo musicale Che dire Siamo partiti così per gioco Per scherzo Con il vernacolo Con il dialetto Effettivamente poi è una cosa Che mi ha preso Perché questa terra Ha bisogno di girare pagine Ha bisogno di segnali forti Di messaggi sociali E io cerco di fare questo Nella mia semplicità Nell'allegria e nella simpatia Tutto qui Crotone è una terra dalla quale Purtroppo si parte Per studiare Si parte per lavorare Si parte anche Per curarsi Perché la sanità sappiamo essere Quella che è Tu che hai vissuto a Genova Mi pare Come si vive lontani da Crotone? Guarda Sicuramente Per determinati servizi Al nord Sono un po' più avanzati Nel senso Ci sono più strutture Come tenore di vita Io ritengo che Qua in Calabria Non ci manca niente Proprio assolutamente Anzi Abbiamo un tenore di vita Assolutamente sano Visto il clima Visto la terra Che ci dà Dei frutti meravigliosi Visto la qualità Del mangiare Che abbiamo in Calabria Direi che Non possiamo Lamentarci Il Signore ci ha dato Veramente tanto Il sole Il mare Purtroppo un po' di lavoro in più Però girando pagina Ci si può arrivare anche a questo La nostalgia della propria terra Stando fuori è forte? Ebbè io ho scritto un brano In questo Che si intitola Terra mia Un brano degli emigranti E ogni volta che giriamo Nelle comunità calabrese In tutto il mondo Questo brano Mi viene richiesto E viene fatto spesso E vedo tanta gente Che alla fine Si commuove Piange Perché lontano dalla Calabria Noi i calabresi Abbiamo la terra Radicata Lontano dalla Calabria È difficile stare Tu guarda stasera Che clima che c'è Abbiamo un clima Meraviglioso Abbiamo una terra Meravigliosa Speriamo che Il 2012 Ci porta un po' di fortuna In più E un po' di lavoro In più per questi giovani Qual è l'indo Nella città di Crotone? Per chi indovina A chi indovina Gli do un città Dai Il lungomare Qual è? Il lungomare Come è fatto Il lungomare di Crotone? Oh che bello Aspetta Aspetta Prima di mandare Facciamo le prove Oh che bello Un mare Un giorni Un giorni Un giorni Un giorni Poiché la giustrugna Un giorni Un giorni e soprattutto alle mani, affstein a di tempi l'ordizioni, il cao su mismassà, e tout de suite de l'assignano, il comando e l'abbemanno, e i eviti issues del mercato. Noi che bello mare di bucione, poi il biscio ogni mattina, quando è buon signore, dei cappuccini e caffè, un pochino e camor, se me vuoi trovare a fare bucione storia. Vittorio parliamo del tuo cd, chiste e crudone, ma com'è sta crudone? Beh guarda, questo racchiude un attimino i modi di vivere, le tradizioni, i modi di dire dei crudonesi, racchiusi in un modo simpatico, racchiusi in una musica allegra, perché questa città bisogna di ridere, bisogna di energia positiva, perché è inutile, come dico in questo brano, un crudonesi si assetta e aspetta. No, bisogna un attimino che ci si alza le maniche e bisogna togliere la fantasia e cercare di inventare qualcosa. Naturalmente le istituzioni devono dare la forza, devono dare l'appoggio economico e non solo ai giovani per cercare di aprire qualche sbocco in fantasia. Vittorio parliamo del tuo cd, chiusura e sacrificio che sento pronto per l'amici. L'artatena d'istimane e ne parla di tutti i cristiani. Su tre anni, Cava Sanremo, portandolo su a crudone. Su tre anni, Cava Sanremo, portandolo su a crudone. di tutti i cristiani. In tutto un'uno, tanta visibilità per questa città, che ha rimasto contente con la sua santità. Ringraziamo la Madonna che l'ha creato, un maestro da fuori, Michel Afrilo. Come vogliamo definire la tua musica? Io sento un po' di blues, ci sono varie commissioni, tu come ti definiresti? Io mi definisco blues, qualcosa ho fatto di blues, una musica sicuramente allegra, non monotona, una musica che ti fa sorridere, a volte ti fa pensare, una musica che quando tornavi a casa magari stai lì e pensi e sorridi, perché io magari con la serietà ti dico qualcosa che magari tu non volevi sentire, oppure qualcosa che non ascoltavi da tanti anni in dialetto, allora ti lascio questo filone per pensare, credo che i miei brani a vedere, i crotonesi mi apprezzano tanto, di questo li ringrazio e stasera vi invito a ascoltare live il mio concerto, conosci di nuovo Cristian Cugione. Per quest'estate sicuramente farai un sacco di concerti qui lungo il nostro mare, lungo la costa. Guarda, io sono a disposizione dell'istituzione, chi mi invita io sono pronto a dare il mio contributo in musica crotonese. Guarda, io sono a disposizione dell'istituzione, chi mi invita io sono pronto a dare il mio contributo in musica crotonese. Sono anni che fa, sono pensate un po' nove anni, nove cd, sfido chiunque a fare un lavoro di ricerca così minuziosa, così particolare, lui ormai sta entrando nella sfera dei grandi, quindi chi meglio di lui può ben rappresentare con la sua satana, con il suo modo di fare le bellezze e non solo, e quando non sono belle lui gli dice in faccia le cose. Grazie a tutti! Grazie a tutti!